Sono tantissimi, ovviamente qui non sono limiti da verificare quanto impiegherà il partistrada a coprire il primo giro e in base a questo l'impevimento di un'impevimento, si calcolerà l'impevimento di un'impevimento di un'impevimento di un'impevimento di un'impevimento. Purtroppo quella caduta là l'ha fregata, qua c'è già un'impevimento, ma queste grandi! Bravo Davide! Non è bella, è una bella forza! Vai Davide! Ritira, ritira! Davide! Davide! Davide!